Grazie a tutti. Grazie a tutti. La terza sfera con me ovviamente sempre Lele Adani scendono in campo oggi per questo impegno di club. Gara tutta da seguire questa. Il calcio su questi canali è sempre sinonimo di divertimento e spettacolo. E ti dico che sono certo che anche oggi ci divertiremo. Parola di Lele Adani. La mette giù bene nonostante il pressig. La gioca lunga per scavalcare la difesa. Può controllarla. Attenzione. Conclusione Murata. Batte lungo. Nessun problema qui. Lascia partire il traversone. Bravo qui nell'interrompere tutto. La mette fuori. Avanzano nella trequartia avversaria. Totti. Ferma tutto e riconquista il pallone. Marchisio. Intercetta il passaggio e recupera il pallone. Bene su questo taglio. Interrotto un'azione potenzialmente pericolosa. Non fisca l'arbitro. C'è il vantaggio. Punta la porta. Cerca spazio al centro. Interviene proprio all'ultimo e salva. Zana. L'arbitro lascia correre. Ramos. Giro palla. Caccia nel barco giusto. Azione che viene fermata. Nuovo possesso per i rivali. Grande tecnica qui. Palla messa fuori. La mette in area. Lettura provvidenziale questa. Totti. Ha letto molto bene questo cross. Occhio al pallone alto. Possibilità. Interviene allontana. Zana. Iaskelheim. Provano a costruire qualcosa. L'arbitro dice che si può giocare. Norma del vantaggio. Intervento rumido ma corretto. Situazione di parità. Fanno girare il pallone. Cross interessante ma non c'è nessuno. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. La gioca profonda verso l'attaccante. Posizione di offside. Non ha dubbi qui l'arbitro. Riconquista la palla. Occhio all'avanzata. Intercetta il pallone in una zona complicata. Bravo. Evita che il pallone esca. ha il supporto dei compagni. Giocata da applausi. Nessun problema sul cross. Palla che è uscita. Ci sarà la tush. Lascia partire il traversone. Presa sicura da parte del portiere. L'avvero attento qui. Paglia alla misura. Perdono palla in una zona pericolosa. Occhio. Può andare nello specchio. E il portiere ci arriva. Recuperano palla. Cià. Tentativo di traversone. Buona uscita su questo cross. Da parte del portiere. Altro passaggio intercettato. Pallone recuperato. Continuano a spingere. Interviene e sventa il pericolo. Sana. La lontana. Si chiudono i primi 45 minuti allo Sport Park. Crono, Tomasoma. Tornaca. Tornaca. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Pallone buttato via. Odenvinghie guadagna metri. Ecco il tiro. Respinge il difensore. Interviene e libera. I compagni si fanno vedere. Entra sulla palla e la fa sua in area di rigore. Riconquistano palla. Pallone filtrante, attenzione. Ferma l'attacco intercettando bene la traiettoria. Pallone che viene allontanato. Sbagliano e regalano ancora il pallone. Capisce tutto e recupera un pallone pericoloso. Può metterla da lì. Può provare da lì. Ha spazio lungo la corsia. La mette fuori. Può calciare in porta. E' il primo gol della gara. E qui possiamo rivedere l'azione del gol. Una ripartenza da manuale. Aveva diverse opzioni per battere a rete. Alla fine ha preferito colpire di potenza. E ha battuto il portiere con una botta secca. Imprendibile. Ciao. Fatica a rattenare il pallone. L'arbitro non interrompe. C'è norma del vantaggio. Odenvinghie. Avanza la caccia di spazi. Attacco che sfuma. Merito del buon lavoro difensivo. C'è l'intervento irregolare. Sarà calcio di punizione. Marchisio. Norma del vantaggio si gioca. L'arbitro sanziona il fallo. Non c'è stata la condizione per la norma del vantaggio. Il tentativo di pressi in qui. Ottima lettura, recupera il pallone. Cerca il taglio. Murato dall'intervento del difensore. Può far male da lì. La parata del portiere qui. Crossa nel mezzo. Super parata. Da pochi passi è riuscito a salvare. Pier, l'avevo vista già dentro. Ti dico la verità. Non so come abbia fatto a toglierla dalla porta. Palla che arriva sul secondo palo. Ci ha provato lì in testa, ma grande riattività del portiere. Palla ancora in calcio d'animo. Corre in aria. Ha segnato ed è un pareggio meritatissimo. Hanno pareggiato, dunque, uno a uno. Totti. Capisce tutto e intercetta il passaggio. Occhio, cerca l'area di rigore. Azione che sfuma, pallone che torna agli avversari. Nulla da fare. C'è campo per andare. Attenzione. Difesa che recupera bene qui e blocca il contropiede. Odenvinghier. Zana. La legge bene e intercetta. Ancora 600 secondi alla fine. Ancora poco al termine. Vedremo chi avrà più coraggio e più qualità per provare a vincere. Difensore spazza in qualche modo. Palla persa. Si riprenderà con la rimessa laterale. La risposta, ma non è finita. E c'è il gol che cambia tutto. Sono avanti adesso a poco dal termine. Una voce gelata per la formazione avversaria. Vedremo. Se avranno la forza per abbossare una razione, Pierre. Non hanno tempo da perdere. Ci sono ancora due minuti da giocare. Marchisio. Palla piena. Tocco profondo a scavalcare la difesa. E il portiere risponde alla grande. L'arbitro aveva comunque fermato tutto per la posizione di fuori gioco. Punta la porta, non lo chiude nessuno. Attenzione, c'è il pallone giusto per chiuderla. E il pallone entra. Adesso raddoppia il vantaggio. Il replay ci permette di apprezzare meglio l'ottimo contropiede che ha portato il gol. Un gol facile e facile. Non c'è più tempo. Finisce qui la gara con successo della squadra ospite. Il tecnico può essere soddisfatto per la prova della sua squadra. Una prestazione che va al di là del punteggio finale. Perché hanno comandato il gioco per larghi tratti del match. E hanno concesso davvero poco alla squadra rivale. Grazie a tutti. Grazie a tutti.